Ma che intendi farne? E beh, tenerla! Vieni alla corda, vero? Oh! Vieni alla qui dentro casa! Già! Eriquetta, vieni qua! Oddio, mi trovate! Buongiorno! Oh no! Scusi, dottor, fatta che ora? Secondo viaggio! Eppa! Eriquetta? Posso chiamarti Eriquetta? E non mozzicare! Ti piace Roma? Adesso compriamo il liattuccio, eh? Bravo!